Ciao amici, ben tornati in questo nuovo video Amori, oggi farò il video, come potete vedere da qui, tag il mio amico peloso Allora, io ne ho più di uno, ho tanti gatti, tra cui quello che vi presenterò oggi Il mio cane Un altro gatto Che sei nina, ciao Questi sono due dei quattro miscini che sono nati, siamo qui, sta sulle scale Oh mio dio, ne ha appena volato uno sul tetto Andiamo sotto, non è che dobbiamo fare il video, vieni E oggi vi presenterò lui Poi ho ancora altri gatti che vanno in giro un po' Non viene, lo dobbiamo prendere Quando arrivo, vi farò vedere meglio È fermata nella mia postazione Comunque farò tag questo qui, amico peloso Allora, dove vai? Qua deve stare, ok Allora, incominciamo Come si chiama, vedrete un po' così, perché lui si mette qua Come si chiama? Si chiama Biscotto Seconda domanda Quanti anni ha? Lui ha, quanto è? Sei mesi Che animale è? Un gatto, un gattino La quarta domanda E di che razza è? È un gatto norvegese Continuando le domande Quali sono le sue abitudini? Allora, mattina e la sera lui beve il latte caldo Mentre al pranzo mangia Poi la sua abitudine, vediamo, guardate Che gli piacciono un sacco le foglie Infatti ci gioca spesso, vedete vedere, guardate Prossima domanda Da quanto tempo ce l'hai? Allora, Alida, da quanto tempo ce l'abbiamo? Sei mesi Da quando è nato? Perché c'è nato qui, vero? Perché la mamma ci è morta Però ci aveva fatto molti molti cuccioli di ero incinta Ed è morta incinta È vero C'aveva anche dei cuccioli che eranoissimi Comunque, ce l'ho Perché la mia gatta ha partorito? Perché la prossima domanda è come l'hai avuto? Perché la mia gatta ha partorito E ha fatto dieci cuccioli Per cui ancora non ha un nome? Perché è un piccolo piccolo Però glielo daremo presto Ora vi faccio vedere la mia amica Ma è micio? La cappella è stabile Prossima domanda Quali sono i momenti più belli con un biscotto? Bisco? Vieni qua Bisco, ecco, un altro soprannome, Bisco Lei, lui è la Lei è la mamma dei micini che vi avevo fatto prendere prima, Nina Nina, vieni qua Che non si fa tanto coccolare È un po' curioso E i momenti più belli con lui Sono tutti Perché io mi diverto molto molto spesso con lui Comunque, il video finisce qui Io e il mio amore vi salutiamo Vero amore? Ah! Lascialo Io e il mio amore E io, impelata Mio cugino Vi salutiamo E niente, mi raccomando Se arriviamo a dislike Fare il video tag il mio amico peloso del mio cane Ciao Ciao